Vi ricordate la struttura quasi in cemento delle vespe muratrici? Ecco, guardate, questo qua era la loro opera. Vedete tutti i buchi? Si sono sviluppate le larve, sono diventate vespe e sono uscite, pensate, per uscire devono bucare la struttura quasi in cemento, quindi sono già molto forti. E quindi sono uscite due, tre, quattro, cinque, sei, ne vediamo, sette, una dietro là. Ce ne erano sette larve pronte. Ecco, guardate quest'altra strutturina, vedete che bella che abbiamo trovato, sempre delle stesse specie. Vedete, ci sono tre tubi, qui era molto semplice, tre tubi appiccicati e sono uscite anche da qua le vespe già pronte. Ma colpo di scena, guardate quassù, guardate che spettacolo, questo è un altro tipo di vespa che fa un altro tipo di struttura, vedete, sembra quasi un lampadario. Guardate che genialità che hanno questi animali per fare i loro nidi. Vedete, ha fatto tutte delle cellette e però ne hanno riparate con una struttura a lampadario e noi lo copiamo per fare i nostri oggetti. Grazie. Grazie.